Ciao, sono Davide Tagliapietra e con questo podcast vi accompagnerò in un viaggio alla scoperta dei retroscena che popolano il mondo delle produzioni musicali, in studio e dal vivo. Come si prepara un tour mondiale? Cosa si nasconde dietro una hit che vende milioni di copie? Come si lavora in studio di registrazione insieme ad un grande artista? Curiosità, aneddoti e tanto altro ci aiuteranno a scoprire cosa succede nella vita di chi resta sempre in bilico tra palco e realtà. Insieme a me ci saranno tanti ospiti, musicisti, fonici, produttori, addetti ai lavori e chi più ne ha più ne metta. Ciao a tutti, eccoci anche oggi, questa volta con due ospiti, due amici, due musicisti bravissimi ma soprattutto belli, Filmer e Gabriele Cannarozzo. Ti ringrazio per il bello, chiaramente ti riferivi più a me. Ti ringrazio per gli amici allora a questo punto. Allora, mi piaceva intervistarvi oggi insieme, anzi l'idea in realtà me l'ha data proprio Gabriele, perché siete di fatto una sezione ritmica, cioè basso e batteria che suonano spesso e volentieri insieme. Questo è successo con molti artisti, tra cui Ferreri, Renga, Biagio Antonacci, ma lascio un attimo la parola a loro per presentarsi. Facciamo pare disparo per partire? Vai, parti tu, dispari. Dammi, però staccami il tempo. Trifo. Ok. Vai. Ciao, sono Gabriele Cannarozzo, sono un bassista, se così si può... Sì, si può. Mi posso definire? Ok, mi posso definire bassista. Sono romano. E questo non depone a tuo favore. Eh, lo so, ma infatti non lo dico. Non dirlo, tagliamo. Questa tagliamola forse, sì, no? Cerco di fare l'accento svedese. Sì, fai un po' più milanese. Un po' più milanese, un po' più così. Classe 1984. Nasco, in verità, chitarrista, come credo tutti i bassisti del mondo, perché il basso è uno strumento che dal bambino non conosci, nel senso fai un po' fatica a riconoscere lo rispetto a una chitarra. Immagino quando hai, che ne so, 5-6 anni, tu vedi uno strumento in televisione, è difficile che riconosci se è un basso o una chitarra, almeno che non hai qualcuno che ti, magari già in famiglia, che suona, eccetera, che ti imbecca. Io, appunto, ho cominciato con la chitarra, la chiesi a Babbo Natale, vi dico questa cosa qui, la chiesi a Babbo Natale in una letterina, scrissi, dove chiedevo che mi fosse portato la chitarra elettrica e il maestro. Cioè, volevo che Babbo Natale portasse... Babbo Natale mi rispose dicendo che la chitarra elettrica non la facevano lì perché lì avevano solo il legno, lì dove sta Babbo Natale, facevano solamente quelle classiche e il maestro non me lo poteva portare perché non si comprano le persone. Perché poi questo abbiamo da grandi, poi abbiamo scoperto che è una cazzata. Ti ha portato il basso? No. No, mi ha portato la chitarra, alla fine. La chitarra classica, piccolina, che io stavo lì e facevo finta di suonare perché non c'era, il maestro non me l'aveva portato. E niente, quindi con questa chitarra ho strimpellato un po' fino a che poi ho studiato, ho fatto... Ma infatti questa in realtà è una domanda che avrei voluto farti dopo, Canna. Ma scusate... Te la faccio adesso in realtà. Come hai cominciato a suonare il basso? Ecco. E a farlo ovviamente da professionista. Allora, praticamente è andata così. Mi ricordo precisamente il giorno, già andavo a sentire concerti, avevo già 12-13 anni e mi ricordo sempre il suono del basso dentro un palazzetto, in uno stadio oppure in un teatro che non avevo ben identificato come venisse prodotto. Però mi ricordavo che quando entrava il basso, e la batteria chiaramente, c'era questa sensazione di potenza, di muscolo. Partiva il brano. Partiva il brano. Sai la famosa botta, i suoi che ti arriva la botta. Esatto, quella cosa lì. Insomma, questo amico qui comprò il basso e il giorno in cui l'ha comprato gli sono andato a casa sua. E mi ricordo, entrai in camera e c'era questo Yamaha RBX steso sul letto, nero, fiammante, l'ho appena preso dal negozio. Io mi avvicinai e con il dito indice ho pizzicato la corda di mi. Questo era staccato, il basso era spento. Però da spento chiaramente questo basso vibrava, non come una chitarra chiaramente, perché il mi basso, essendo la corda più grave, quella più cicciona dello strumento, vibra di più, ha più frequenze basse. E rimasi proprio scioccato. Ho suonato questo mi e ho detto, no, aspetta un attimo, dammi il basso, ho preso il basso. E siccome comunque la chitarra la suonavo bene, ho fatto il conservatorio, nel senso che sapevo leggere la musica, mi ricordo che ho preso un libricino, sai il tipo quello del cantatù, le parole sopra gli accordi, solo, l'arre. E a prima pagina c'era Donne di Zucchero. E sai, con gli accordi, io provavo a cantarla e mentre la cantavo ci mettevo appresso le note che leggevo lì. E' bellissimo, questa sensazione di cantare una canzone, non sono un cantante, faccio schifo, però di immaginarmi la canzone cantata e subito l'uscitamento in basso mi ha proprio aperto un mondo. Poi da lì ho buttato la chitarra al cesso e ho cominciato a suonare il basso, però non andrei troppo, perché sto rubando spazio a questo bellissimo esemplare di batterista e di amico che ho qui davanti, che è Phil Maher. Va bene, io sono Phil Maher, sono batterista, cioè manovale della batteria, però suono anche altri strumenti e anch'io ho cominciato molto giovane a suonare come tutti i bambini a picchiare sulle pentole, sui fustini del dash, solo che in montagna dove sono nato io, in Alto Adige, che è quasi a 2000 metri, non esisteva l'insegnante di batteria. Quindi mia mamma, per farmi comunque studiare, ha deciso di farmi intraprendere delle lezioni di flauto dolce, mi sembra correlato perfettamente, molto coerente, ovviamente poi dopo qualche anno l'ho buttato e mi sono dedicato al piano forte. Ma qui scusami, tu sai suonare il flauto dolce? Cioè io scopro adesso, dopo dieci anni scopro questa cosa qui? Io lo sapevo suonare ma nel frattempo l'ho scordato, perché si è così giovani per un tempo limitato, poi si cresce e certe cose si scordano. Esatto. E come sei arrivato alla batteria? Ecco, la batteria, ho avuto diciamo questa sfortuna e fortuna, cioè che i miei genitori si sono separati e mia mamma si è risposata con un artista conosciuto che è Red dei Poo e quindi lui ha visto che ha visto in me, che ero piccolino, già a una certa predisposizione quindi mi ha regalato la mia prima batteria che avevo sei, sette anni e poi quando insomma sono cresciuto ho continuato fino a farla diventare una professione. Sebbene io abbia frequentato l'università, ho fatto scienze dei beni culturali, ovvero Ho pure studiato. Ho pure studiato, io volevo fare il critico d'arte, cosa che sto facendo in questi mesi di pandemia. Cioè quindi tu hai un lavoro. In realtà avrei un lavoro vero, esatto. Meno male, meno male. E poi diciamo che gradualmente, io mi ricordo che studiavo qui a Milano all'università e suonavo anche nei musical e contemporaneamente per riuscire a dare l'esame all'università mi tenevo accanto alle partiture sul leggio anche ai libri di università. Quindi avevo questa doppia mansione e a un certo punto non ce l'ho fatta più, ho detto cosa mollo, la musica o la storia dell'arte e ho fatto un gravissimo errore che ho mollato la storia dell'arte. Ma adesso la riprenderai, siamo sicuri che... Poi da lì ho cominciato a suonare, ho cominciato da giovane, a 22 anni con Pino Daniele, ho fatto un'audizione e l'ho passata, poi da lì insomma sono... come si dice, un bacio tira l'altro. Certo, certo. Invece da voi, volevo sapere, che cosa, visto che siete insieme, che cosa vuol dire essere una sezione ritmica? Perché noi ne parliamo come fosse una cosa scontata, ma magari la gente non sa di cosa stiamo parlando. Dunque, essere una sezione ritmica, allora per sezione ritmica si intende specificatamente basso e batteria. Esatto. Esatto. Innanzitutto vuol dire, diciamo, avere un'intesa, diciamo, se vogliamo semplificarla, no? Prevedere... Prevedere le mosse dell'altro. Esatto, prevedere le mosse dell'altro. A volte con uno sguardo. Esatto, ma spesso e volentieri non serve neanche il sguardo. Non serve neanche quello. Nel senso, quando c'è molta intesa, per esempio, tra me e Phil, possiamo anche stare di spalle a fare una cosa. Sì, tendiamo a non guardarci, proprio perché lo vedo spesso, quindi lo conosco, me lo ricordo. Sì, sì, potete anche suonare in... Guardiamo altrove. Anche istanze separate, come magari sarà successo, sicuramente, perché spesso e volentieri... Anche in studio, magari non ti puoi vedere, oppure non è che uno da una parte o uno dall'altra. Quindi sicuramente vuol dire avere una grande intesa dove non serve spiegarsi le cose. Esatto, dove non serve neanche parlare. Cioè, quando dobbiamo suonare assieme, magari un brano per la prima volta, non è che ci sia bisogno di dirci, ma lì tu cosa faresti? Io darei quei due colpi di cassa, così anch'io posso replicarli. Non è mai successo. Non è mai successo, cioè di dover... Frank Zappa diceva parlare di musica è un po' come ballare d'architettura, cioè non ha senso. Alcune cose basta ascoltarle, sentirle e poi non serve neanche parlarne, insomma, viene da sé. Sì, c'è proprio un discorso di... Cioè, non è una questione che siamo degli indovini, chiaramente. Ah, è una questione di imparare il linguaggio che uno utilizza e adattarsi. Esatto, nel senso che io so benissimo, conoscendo lui, so che quando parte in un modo, so più o meno dove va a parare, ma anche se non lo so, mentre suono lo percepisco. Cioè, lo percepisco quell'attimo prima, ma non è una cosa che faccio in maniera cosciente, chiaramente. Non è che dico, ah, adesso ho sentito che fa quella cosa, quindi io faccio quello. È un flow. Cioè, è una questione molto liquida. E questo rende il suonare molto fluido. Esatto. Infatti, anche basso e batteria, non è detto che si debbano trovare per forza sempre bene. Cioè, a volte dei bassisti anche molto bravi, dei batteristi molto bravi, che però non sono compatibili. Ecco, questa è una cosa interessante. Questa è una cosa interessante. Sì, perché essere una ritmica affiatata vuol dire esserlo sul palco, esserlo in studio, ma esserlo in macchina quando si viaggia, essere al ristorante, esserlo nella vita. Anche nella vita, certo. Perché è proprio una questione. Poi noi siamo proprio amici al di là di tutto. Ma è questione di vederla allo stesso modo, cioè di sentire la musica in un modo che è compatibile, di avere una sensibilità che è compatibile. Non è detto che sia giusta in maniera assoluta, però io e lui insieme ci troviamo bene e magari io non mi trovo bene ugualmente con un altro bassista che magari è altrettanto bravo, però è proprio questione di compatibilità. Compatibilità. Come tra uomo e donna. Per cui spesso quando un artista o una produzione sceglie di avere una sezione ritmica affiatata il motivo è proprio quello, per avere un flow, un certo tipo di andamento che è assicurato. Sì, diciamo che spesso e volentieri poi si tende proprio a chiamare insieme una ritmica, cioè di chiamare due che bene o male lavorano insieme, che si conoscono, più che altro che sono contenti di suonare insieme a quell'altro, perché il basso e la batteria sono gli strumenti che tra di loro sono più collegati musicalmente, cioè io devo suonare strettamente con lui e lui deve suonare strettamente con me, non che il chitarrista non debba, però magari il chitarrista può essere più un solista, quindi può essere anche un po' più slegato da questa logica. Un po' più jolly. Il basso e la batteria devono essere veramente molto incastrati per funzionare. A questo punto volevo farvi una domanda e come abbiamo già fatto nel primo episodio, volevo associare ogni domanda ad un suono particolare che potrebbe rievocare delle sensazioni, delle emozioni, per cui comincerei con il primo suono. Chi sceglie i musicisti di una tournée? Come si scelgono? C'è una produzione? Gli sceglie l'artista? Come si arriva a essere scelti? Ci fanno delle audizioni? C'è una scuola? Come funziona? Dipende. Tutte le cose che hai detto. Sono valide. Io per esempio il mio primo lavoro l'ho fatto attraverso un'audizione. Una volta ci si basava molto sul direttore musicale. Veniva incaricato un direttore musicale che era una figura responsabile di tutta la band, degli arrangiamenti, una figura a stretto contatto con l'artista, che magari proponeva o sceglieva lui i musicisti in base a quelli che riteneva più adatti. Ultimamente questa figura sta perdendo un po' di importanza perché gli artisti, che sono comunque dei giocherelloni, amano frequentare i social, YouTube, Instagram, per cui il più delle volte loro stessi vanno a scegliersi i musicisti guardando magari video su YouTube o Instagram, a volte in maniera spontanea e casuale, altre volte perché magari alcuni musicisti vengono suggeriti a loro, allora vanno a vedersi i profili. Quindi è cambiato molto. È cambiato molto. Io mi ricordo che ho fatto la trafila, quella che ho cominciato a lavorare in uno studio, la chitarra non l'ho presa in mano per due anni, facevo solo, tiravo su cavi, facevo i caffè e portavo avanti e indietro con la macchina gli artisti dallo studio. Dopo due anni qualcuno mi chiese, ma tu suoni, mi sembra. Dai, porta la chitarra allora, che proviamo a fare una cosa. Invece oggi può succedere di tutto. Che tu non hai fatto niente, nessuna gavetta, però hai fatto un bel video che per qualche motivo piace all'artista e ti puoi trovare dalla tua cameretta su un palasport. Questa per certi versi è un'ottima cosa per i giovani musicisti. Tanti mi chiedono, ma come si fa? C'è una scuola che... È una buona opportunità, però... È un'arma a doppio taglio. È un'arma a doppio taglio, sì. Perché diciamo che tu vedendo un contenuto su Instagram... Ma questo vale anche per un'audizione. Io non sono mai stato particolarmente favorevole alle audizioni come fanno in America, che vedono centinaia di musicisti per cinque minuti l'uno. Perché tu, ok, puoi anche rimanere colpito, sorpreso da un musicista che ha suonato bene per quei cinque minuti, ma cosa sai della sua storia, della sua sensibilità, del suo atteggiamento, del suo carattere? Poi te lo devi portare in giro per un anno. Sono tutte cose molto importanti, perché poi giustamente te lo ritrovi in giro per... E questo vale anche per un video, perché io posso vedere un video bellissimo di un minuto su Instagram, dove rimango affascinato da un musicista. Ma cosa so del suo carattere, di come si comporta, se ascolta quello che faccio io, se sa stare al suo posto, se arriva puntuale, se è una persona su cui posso contare, se oltre a suonare bene quella cosa lì sa suonare bene anche il resto del repertorio. Cioè, per cui, non lo so... È un po' difficile valutare un musicista da un profilo social. Ma è mai capitato di trovarvi con un musicista con cui non vi trovavate bene, senza far nomi? Beh, sì, certo. In continuazione? Ovviamente sì, ovviamente sì. Però, secondo me, bisogna fare un discorso separato di due cose. Cioè, quando tu dici che non ti sei trovato bene, parli sicuramente del punto di vista musicale. Però poi c'è anche il punto di vista umano. No, io parlavo proprio del punto di vista umano. Non parlavi, ok. Sì, no, sì, certo, sicuramente. Però ecco, bisogna scindere le due cose. Perché ci sono alcuni bravissimi musicisti che sul palco veramente sono pazzeschi. Poi magari nella vita non sono persone con cui ti trovi. Con cui vai particolarmente d'accordo. Esatto. E al contrario ci sono persone con cui vai particolarmente d'accordo nella vita che però non sono magari dei grandi musicisti. Preferisco sempre la seconda opzione io. Cioè, persone, ok. Poi magari non è il miglior musicista del mondo. Però sai che c'è che fare un tour, soprattutto, quando si sta in giro, vuol dire proprio stare in giro, vuol dire dormire negli stessi alberghi, andare al ristorante. Fondamentalmente stai 24 ore su 24 insieme tutti i giorni. Quindi... E poi stai due ore sul palco. Quindi è meglio soffrire quelle due ore sul palco. Esatto. E stare dentro della giornata. Esatto, sempre. Anche perché sul palco quel musicista lì... Te lo vuoi spegnere. Esatto. Capito? E tu non lo senti. Spieghiamo questa cosa del... Spieghiamo. Spieghiamo. Allora. Ogni musicista ha delle cuffie nelle orecchie. Cosa sente in quelle cuffie? Alcuni sentono la partita, alcuni sentiranno un disco bello. Ma la maggior parte di noi sentono un mix. Cioè una specie di disco fatto al momento. Ok? Fatto al momento dalle altre persone. C'è un fonico che si occupa proprio di distribuire i vari strumenti che stanno suonando alle varie persone. Per esempio io posso dire a me bassista mi metti il basso, poi mi metti un po' di batteria, poi mi metti la chitarra, le tastiere, la voce. Cioè posso fare un ascolto personalizzato per me. A seconda dei miei gusti, a seconda delle mie esigenze. E ognuno di noi può fare questa cosa. Chiaramente alcuni strumenti posso anche decidere di non ascoltarli o ascoltarli a un volume molto basso. Perché? Dice, ma se li senti un volume molto basso perché li ascolti? C'è un motivo speciale anche per questo. Perché? Quando suoniamo tutti insieme non lo sento. Però metti che nel silenzio al soundcheck, quello lì, mi dice Oh, ma se su quella canzone faccio questo accordo qui e io quello lì non lo sento proprio. E capisce che è spento. E capisce che è spento. Faccio la figuraccia. Quindi bisogna sempre tenere un minimo aperto. Che però poi quando si suona tutti insieme non dà fastidio. Abbiamo svelato questo piccolo segreto. Cosa che poi alla fine non succede quasi mai. Poi alla fine, insomma. È raro che proprio uno... Beh, parla per te. Di solito abbasso molto i cantanti. Ma quello un po' tutti lo facciamo. Beh, c'è anche una ragione. C'è una ragione. C'è un microfono, c'è un sacco di rientri. Certo. Un sacco di confusione. Con il cantante alto c'è un sacco di confusione in più. Tantissima confusione. Si abbassa un filino per quel motivo anche. Cioè la ritmica ha comunque la responsabilità di tenere anche il tempo in una certa maniera. Quindi di essere solida e affidabile. Mentre giustamente il cantante che oltre a cantare deve pensare a intrattenere il pubblico, a muoversi, a ballare, magari la scansione esatta del tempo da parte del cantante non è sempre affidabilissima. Si può permettere qualche leggera o imperfezione in più. In quel caso io non posso correre il rischio di venire eccessivamente distratto da questa interpretazione del tempo differente. Quindi magari non lo tengo a un volume. Sì, lo tengo a un volume che si sente, però non è di certo il volume a cui il cantante stesso tiene a se stesso chiaramente. Diciamo che si tende leggermente nel proprio mix a avere il proprio strumento leggermente più alto. Almeno per quanto mi riguarda è leggermente più alto a quanto sarebbe in un disco fondamentalmente. Quindi non senti solamente te stesso mentre suoni, senti tutti gli altri. Nel caso del basso è molto più alto di come lo senti. Perché nel disco il basso non si sente. E' vero, questo è vero. Quindi mi concerti tantomeno. Mi concerti tantomeno, quindi lo senti solo tu. Lo sento solo io. Ho detto ragazzata, è vero. Io che ti voglio bene. Faccio mea culpa, faccio mea culpa. A proposito di concerti, cosa... e qui facciamo sentire anche un altro bel suono. Mi piace questa cosa del suono. Che emozioni provate quando siete sul palco? E se vi viene in mente qualche momento in particolare da raccontare? Sì, io mi ricordo un'emozione molto forte che ho provato un paio di anni fa. Poi dico quella vera, chiaramente. Un paio di anni fa mi ricordo che eravamo a suonare all'Arena di Verona con Renga. E io, poco prima di salire sul palco, c'è un momento in cui si sta al lato del palco. Magari c'è una sigla, c'è un video, un contributo video che va e stiamo tutti lì, sai, mettiamo le cuffie. Ognuno ha il proprio trasmettitore della cuffia. Si sistema. Allora pronti? Allora sì, ancora un minuto. Ci siamo. Mentre mettevo le cuffie mi rendevo conto che non mi tornava sto suono. Dicevo ma sento tutto strano, ma sento come se fosse sbagliato l'ascolto. Però nel frattempo che facevo questo ragionamento, vedevo che loro erano andati. E io ero rimasto lì e dicevo no, ma c'è qualcosa che... E allora il fonico di palco veniva lì e mi maneggiava dietro il... Con l'ansia di dover salire in palco e non essere a posto. E io gli dicevo devo andare, oh devo andare, e questo aspetta, aspetta, ci sono... E nel frattempo era partita la... Era padrone, loro stavano tutti ai loro posti. Era partita... Devo andare. E partiva l'intro del primo pezzo. E partito l'intro del primo pezzo. Oh, lasciami, devo andare. Arrivo sul palco correndo, il cantante era già entrato. Sul palco correndo riesco a dare la prima nota di... Di una tastiera, correndo, allungo il braccio e riesco a dare la prima nota. Quindi l'hanno vista tutta l'arena, ha visto questa scena di un pazzo che entrava correndo e ha dato la prima nota. Quindi lì c'è stata un'emozione molto forte. Però è stato un ingresso molto scenico. Molto scenico, assolutamente. Ti hanno chiesto di farlo sempre? Sì, sì, l'ho fatto sempre. A parte questo, c'è sempre una grande emozione che però non va... Cioè, è una cosa che serve a focalizzare l'attenzione, a focalizzare la concentrazione. Cioè, non è l'emozione della prima volta che sali sul palco e dici, Oddio, Oddio, ma che devo fare? Oddio, ho paura? Non è quella cosa lì. È una... Sicuramente è una gioia di suonare. Adesso cominciamo a suonare, siamo carichi fondamentalmente. E almeno io cerco di canalizzare questa specie di adrenalina, questa emozione, per invece essere molto concentrato, per essere molto a fuoco. Quindi questa cosa qui, questa emozione, in verità, non mi distrae. Anzi, mi aiuta a essere più a fuoco su quello che faccio. Beh, visto che parliamo di ingressi sul palco, anch'io ne ricordo uno particolare. Era 2007-2008 quando suonavo con Pino Daniele. Abbiamo fatto una data a Zurigo, un teatro, la concertale di Zurigo. E mi ricordo che lui in quel periodo si lamentava particolarmente del pubblico troppo rumoroso. Ah, ok, non è l'unico. A lui piace il concerto di musica classica, oppure di jazz, dove sono tutti seduti in silenzio e alla fine della canzone applaudono, non si applaude, non amava gli urli. Poi era periodo che lui comunque a Napoli non tornava volentieri proprio per questo motivo, perché era già una specie di icona in vita per il fan napoletano. Quindi noi lo sappiamo, noi amiamo i napoletani, sono molto espansivi, calorosi. E lui in quel periodo lì soffriva un po' questo eccessivo amore. Quindi quando lo chiamavano, quando urlavano, cantavano le sue canzoni, lui non... Quindi era tutto contento di poter suonare a Zurigo, perché diceva «Phil, stasera dobbiamo suonare bene, perché qui ci ascoltano, questi stanno attenti, sono svizzeri, sono proprio concentrati». Quindi era tutto felice che avrebbe fatto il concerto con le persone in silenzio, come quando andava a sentire Pat Metini al jazz club. Parte l'intro, il sipario, si apre lentamente il sipario, parte una piccola intro che faceva il pianista e senti urlare, erano tutti napoletani, «Pino, sei grosso!» Erano tutti napoletani della Svizzera che si erano riuniti in un posto solo, in un posto, venuti a sentirlo. Sì, sì, mi ricordo. C'è rimasto malissimo. C'è rimasto malissimo. Sì, 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 era proprio dove se l'aspettava. Vabbè, al di là di questo, sì, i momenti, prima di salire sul palco, sono sempre i momenti di maggiore concentrazione. Poi dipende un po' da carattere. Io non sono una persona che manifesta molto l'emotività. Non lo ero neanche a scuola, cioè quando avevo l'esame non è che manifestavo l'ansia o sudavo. È anche un po' una tecnica di difesa quella di fingere un totale disinteresse per una cosa che in realtà ti sta molto a cuore. Però sì, ecco, tendo proprio per questo, per esorcizzare il momento, a non avere riti prima del concerto. Cioè a fare finta come se non stesse succedendo niente. Quindi magari a conversare, a guardare il cellulare, a fare una tele... Cioè proprio a fare esattamente l'opposto di quello che faresti prima di un momento importante. Cioè non è che se ti stai per sposare in chiesa guardi il cellulare o rispondi alla mail o no, non lo fai proprio perché il momento è solenne. In questo caso il momento è solenne perché stiamo per sedere sul palco ma io per dissimulare ecco mando un messaggino magari a lui. Sì, sì, sì. Capita, sì, sì. Capita. Oppure fino a che magari si apre il sipario ci continuiamo a dire senti, no, ma domani ma la cena dove andiamo? Ma c'è quel posto lì? Aspetta! Silenzio, sipario. Anche perché se si comincia a pensare a cosa devo fare, Ti vai in palla, almeno non mi capita così. Gli accordi non li so. Generali. Ma è vero, a parte la battuta è vero quando tu suoni, no? Adesso infatti questa cosa la voglio chiedere a te. Tu pensi alla sequenza di accordi? Assolutamente no. Assolutamente no. Esatto, che sembra assurdo, no? Dirla questa cosa perché c'è proprio un flow della musica che cioè quella canzone fa per forza in quel modo lì. Cioè la mano deve andare in quel punto lì della chitarra per fare quel suono che ci vuole in quel momento. Se comincio a pensare agli accordi sbaglio. No, esatto. Mi fa, oddio, va in palla, arrivederci, grazie. Quindi la musica non va pensata va suonata. Esatto, questo è vero. Assolutamente. A questo punto vorrei farvi un'altra domanda e per introdurre la domanda vi farei sentire quest'altro suono. Allora, abbiamo già parlato di come ci si prepara per una tournée negli episodi precedenti. Vorrei sapere nel dettaglio voi come vi preparate da bassista e da batterista ovviamente. Beh, allora, diciamo che la prima cosa che fai è concordare un bel cachet per prepararsi. La prima cosa che si fa è concordare una bella cifra. Quando è concordato una bella cifra è fatto, basta, non devi fare più niente perché il resto si fa da sé, no? Beh, passato questo momento molto divertente succede che il direttore musicale solitamente manda una scaletta con allegato magari un dropbox insomma tutti i file che servono per preparare i brani ovvero le tracce separate di ogni brano dove tu puoi sentire estrapolare quella che è proprio la tua parte. Ora, non sempre arrivano queste cose ci sono anche dei tour dove ti dicono questo è il disco Ascolta su YouTube Ascolta su YouTube Perfetto e ci vediamo direttamente al concerto No, insomma c'è una fase di studio di preparazione dove fondamentalmente scegli che strumenti portare che impronta sonora vuoi dare e ti studi proprio le canzoni te le impari a memoria Sì, le impari a memoria e vedi se c'è qualcosa che vuoi modificare se c'è una parte che ti viene in mente più particolare se vuoi dare un tocco se vuoi cambiare una cosa diciamo che per quanto mi riguarda non non studio una cosa pedisseguamente per poi lasciarla così la studio da saperla ma poi le cose bisogna suonarle insieme agli altri fondamentalmente soprattutto insieme a lui c'è capitato Phil quanti milioni di volte che poi quando andavamo a suonare un brano lo facevamo bene o male un po' come ci pareva poi cioè rispettando tutti i canoni esattamente del brano però un po' diverso un po' interpretato esatto un po' interpretato ma a tal proposito ti viene in mente qualcosa una parte una linea di basso che ti piace suonare che ti diverti in particolare in particolar modo una cosa che suoniamo insieme per esempio ma sì per esempio mi viene in mente che c'è un brano che abbiamo stravolto parecchio che suoniamo appunto con Renga che è un brano che si chiama L'amore altrove che è un brano che lui canta in duetto con Alessandro Moloso che è un brano che ha un andamento interessante è una medium ballad dove però a noi da subito ci è piaciuta l'idea di farla in una maniera molto più black sarebbe carino che ce la faceste sentire e praticamente negli anni poi questa cosa qui l'abbiamo anche un po' esasperata un po' esagerata alle volte fino a farci guardare male dagli altri perché era diventata talmente oltre questa cosa qui che a un certo punto gli altri si girano vabbè ragazzi così è troppo perché lui cominciava a suonare tutto storto con il Charleston storto e io tutto indietro tutto indietro super laid back tutto appoggiato diventava un disastro a me piaceva tantissimo però vabbè indietro diciamo lo vuol dire suonare in ritardo sul beat in ritardo sì non è proprio un ritardo ma è una è una cosa di espressione un ritardo di espressione non è concepito come un ritardo viene concepito dall'ascoltatore come una sonorità differente quindi che poi è un effetto insomma che ultimamente va di moda adesso suonano in America suonano tutti così e quindi si fa così quindi si fa così se lo fanno gli americani lo dobbiamo fare pure noi è giusto quindi come mi preparo a un tour allora ci sono due momenti che secondo me sono sacri il primo è pensare alla strumentazione da portare in base al genere che fa per esempio adesso che va molto di moda l'electro pop c'è la musica elettronica nel pop mi domando sempre se è il caso di integrare il mio set di batteria acustica con dei suoni elettronici come riprodurli se riprodurli con dei suoni acustici magari modificati oppure portarmi i pad e quindi oppure arricchire il mio set con dei piatti particolari questo dipende dal repertorio quindi quello è il momento diciamo bello dove io proprio mi figuro come l'architetto dove mi figuro che cosa porterò di cosa ci sarà bisogno ovviamente interfacciandomi con il direttore musicale o semplicemente con me stesso in alcuni casi e poi è un'altra cosa che mi piace fare in preparazione se è un artista con cui non ho mai lavorato magari devo preparare un repertorio nuovo mi piace conoscere a fondo quell'artista quindi ascoltarmi tutta la sua discografia a prescindere questo si può fare anche quando viaggio in macchina voglio proprio dal momento che devo essere al suo servizio e valorizzare il suo repertorio non mi piace studiare solo le canzoni che dovrò suonare ma mi piace saperne di più quindi ascoltare magari anche qualcosa della sua storia se ce l'ha i dischi passati ascoltare varie versioni che sono state fatte nel tempo insomma è una maniera un po' per approfondire per conoscere meglio la musica che dovrò suonare anche perché poi i pezzi che devo preparare sì imparo memoria le strutture mi scrivo delle cose ma poi il più delle volte si costruiscono gli arrangiamenti proprio mentre si prova quindi non ha senso studiarseli troppo a casa perché poi rischi di di fare ancora più fatica ad abbandonare quello schema se l'hai provato per tante volte bisogna andare un po' a braccio poi soprattutto per la sezione ritmica diciamo che per farla semplice il concetto che quando ci sono i colpi di cassa ci deve essere il colpo di basso quindi alle volte ci troviamo a dire ma lì come lo facciamo quel passaggio come lo facciamo magari decidiamo una cosa e poi lui puntualmente durante il concerto la cambia la cambia che cavolo stai dicendo Willis? e lì deve essere bravo lui a indovinare a indovinare dove mettere e ogni tanto mi devo sporgere a seconda delle posizioni in cui siamo se è possibile per guardare il piede perché devo indovinare quando lo sta per muovere per capire che figurazione infatti io metto sempre delle scarpe scurissime in maniera tale che lui esatto non veda sembra uno scherzo ma è esattamente la verità mi fa gli scherzi capito mi leva i colpi di cassa io metto la nota come uno scemo e rimango appeso perché sennò che divertimento eh no certo è giusto è certo ragazzi io intanto vi ringrazio però vorrei farvi un'ultimissima domanda vai se avete un aneddoto divertente che vi è successo ma che ne so durante una sessione in studio piuttosto che a pranzo con un artista con beh sì io c'erò uno che fa molto ridere vai dillo se fa molto ridere ero in tour con Marco Masini e stavamo andando a fare una data in Svizzera e eravamo su un furgone su un pulmino insomma e lui era seduto davanti che stava guardando la partita non so se giocava la Fiorentina oppure era l'Italia non mi ricordo noi stavamo divisi tra tutta la band con i tecnici nei posti dietro e si parlava del più del meno di musica e a un certo punto si parlò di brani di di Sanremo eccetera eccetera io individuo adesso senza fare individuo hai un brano il tuo brano di questo artista a me piace tantissimo pazzesco poi tra l'altro quell'anno non vinse Sanremo vinse un pezzo vinse un pezzo inutile quell'anno lì ma un pezzo brutto cioè doveva vincere quello no no e si sente da davanti si sente l'uomo volante e io dico no non era l'uomo non aveva vinto l'uomo volante quell'anno si c'ero e quindi feci una figura che ha vinto lui e io ho capito ho detto no ma non doveva vincere quello lì ma dico proprio vinse uno con una canzone di m***a ma una cosa così dissi questa cosa è orribile ha detto ora mi caccia per sempre sarò fregato e invece no poi a volte le gaffe si perché la spontaneità la spontaneità paga a volte lo sappiamo tutti tu le potresti raccontare diverse Phil che ci racconti no vabbè ne racconto due brevissimi uno mi ricollego alla tua gaffe perché ne ho fatta anch'io una mostruosa allora suonavo con Enrico Ruggeri in Sardegna e eravamo sulla scaletta dietro il palco mancava ancora un pochettino mancavano 5 minuti ero lì con Enrico che chiacchieravamo non mi ricordo di che cosa e da dietro il palco non è che senti bene la musica che mettono nell'impianto nelle casse però io sentivo questa musica un po' tamarra tuc 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 cioè sentivo solo il beat le basse si sentono in realtà da dietro e mi sembrava strano perché voglio dire comunque Enrico Ruggeri è un cantautore anche impegnato e gli ho detto Enrico ma scusami ma perché prima del tuo concerto il fonico mette nell'impianto questa musica di m***a e lui cerca di ascoltare meglio mi guarda e fa ah no ma questo è il disco di mio figlio voleva giustificare perché ci fosse quella musica allora io ho detto beh Enrico penso di aver fatto una gaffe memorabile sei d'accordo lui si è molto divertente poi l'abbiamo buttata a sorridere invece un'altra cosa è è un po' per sfatare questo mito dei musicisti che sono alcolizzati allora io a me piace bere giustamente del vino insomma come a tutti anche prima del concerto va benissimo bere un goccino sì un goccino si sta anche per sciogliere un attimo però ho scoperto che non lo devo mai fare tra un tempo e l'altro se c'è il primo e il secondo tempo stavo suonando in una turniera teatrale con i Poo ed era mi ricordo il 30 novembre eravamo in un teatro ad Ascoli e tra il primo e il secondo tempo si festeggiava il compleanno di Red quindi suoniamo il primo tempo io suono il primo tempo completamente sobrio perché o bevi dall'inizio o non è che bevi da metà ecco quindi il primo tempo ero completamente sobrio poi c'è stata questa festa la torta per qualche motivo io sono fatto 4-5 bicchieri di prosecco poi è iniziato il secondo tempo e c'era Parsifal ecco penso di aver sbagliato gli stacchi di Parsifal ma c'è una registrazione di questa cosa? dovrebbe esserci la devo chiedere perché io poi se sbaglio una cosa non dormo per le successivi tre notti perché uno è poi perfezionista poi l'errore insomma vado anche se non dovrebbe essere così però ecco questo fatto di bere a metà concerto mi ha completamente mandato in till quindi consiglio o bevete da subito o bevete alla fine non fatelo a metà giusto questo è un messaggio molto importante per le nuove generazioni bene ragazzi io vi ringrazio ancora avete raccontato delle cose interessantissime cose di voi che non sapevo per cui è stato veramente interessante grazie a te e poi se ci lasci i dati per la fattura esatto ringrazio tutti e ci vediamo la settimana prossima con un altro episodio e altri ospiti grazie mille e a presto ciao 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 avete ascoltato in e out la vita dentro e fuori dal palco un podcast ideato da Davide Tagliapietra Michele Quaini e Giorgia Gianattasio con la partecipazione di Davide Tagliapietra prodotto da Mentre Reliving Stories sai che dovremmo tagliare tutto tutto perché tanto io non mi tengo va bene va bene perché bevo prima così non bevo dopo se non si beve sul lavoro comunque ragazzi voglio dirvi questa cosa sai che hai dei bracciali molto sonori se lo tolgo infatti almeno questo guarda ecco qua sono un ruolo che mi ha detto che mi ha detto